La posizione dei 5 Stelle sull'Italicum non cambia. Il movimento boccia senza appello il testo in discussione perché fa sì che il voto del cittadino possa non valere nulla. Non per nulla sul blog è stato definito pregiudicatellum e il deputato Fraccaro, rivolto ad un gruppo di studenti che assisteva alla seduta, ha detto stiamo votando una porcata. È la peggior legge elettorale che è passata per questo Parlamento. Noi iniziamo a lavorare l'idea che l'accordo fatto tra Renzi e Berlusconi abbia un fine chiaro, ovvero sia quello di salvare Berlusconi come un vero e proprio salvacondotto dall'interdizione dei pubblici uffici. Non possiamo credere che Renzi sia arrivato a tanto.